Un aeroporto di Naro Vecco, occupato dagli Ingoresi, le forze tedeschi combino un'arta, una, due, ritirata d'attacco. I tedeschi hanno arrestito nuove difese sulle montagne Cirocostante, le forze buoni danni che inseguono i nemici. Come dire kill yourself senza... Shut up! Scherzo. Eh? Come dire kill yourself senza essere bannato? Scrivimo con la C. I tedeschi sono in fuga, ma non vogliono arrendersi. Oh, è un... Stimo così. King. Young. Sen. Sess. King. Young. Yes, mom. Scusami. Sì, ma guarda la mira come cambia, guarda, guarda. Cioè, è assurdo, eh. Guarca putt. Oddio, ma co... Poi è morto pure una volta. Però che qualcuno si è registrato. Io. Sono registrato adesso io. Io sono registrato, è un pezzo di terra. Ma guarda che cazzo di trick che fa, fa dei flick assurdi. Ma poi vuoi è shotta gli aerei. Vuoi è shotta i piloti degli aerei. Ottimo lavoro. Ora che Narvik è sotto il colore... Ezz, ezz, ezz... Cosa, ezz, cazzo? Trove il ferro. Stava sbagliato. Però la Germania non si arrenderà tanto facilmente. Anche se oggi la vittoria è nostra, questo sembra solamente l'inizio di una lunga guerra. Vuoi darmi i soldi. Giupi soldi. Mi dica che qualcuno è andata a sciopare l'acca. Eh, abbandoniamo? Via. Eh, sì. Cazzo, ho messo continuo. È vero, devi mettere continuo, se no ti si banca. Noi boss. Noi boss. Voi sono usciti? Beh, beh, almeno ce l'avevamo con noi